buonasera amiche buonasera amici mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto stasera in particolare volevo portare una nuova notizia per quanto riguarda onda proprio perché è mai da molto tempo che si parla di una nuova onda che dovrebbe arrivare sul mercato e la notizia è questa partiamo dire per facciamo una premessa prima di tutto nel mercato dell'enduro stradale in una classe di cilindrata insomma inferiore ai modelli del maxi enduro che vanno ormai da 1100 1300 cm3 abbiamo vari modelli ad esempio le bmw f850 gs ktm adventure 890 r poi c'è la triumph tiger 900 rally a tre cilindri che la caratteristica di essere tre cilindri infine yamaka tenere 700 e l'april aprilia scusate tuareg 6 e 60 quindi tra queste moto e appunto andando a scendere con la cilindrata onda è un po di tempo che proprio che vorrebbe proporre una moto alternativa alla africa twin quindi partendo dall'africa twin e riducendo la cilindrata vorrebbe appunto avere due vantaggi il anzitutto il prezzo di acquisto più basso che potrebbe invogliare appunto qualche acquirente ad acquistare questo nuovo modello ma anche come riduzione sia di ingombri sia di peso quindi di questa nuova moto che appunto abbiamo visto si denominerà transalpa ne parliamo dopo secondo indiscrezioni c'era la possibilità di vederla già lo scorso novembre però poi le cose sono cambiate anche a causa della decisione presa relativamente ai ritardi previsti per gli approvvigionamenti già allora quindi parlo del di novembre 2021 si pensava appunto che sarebbero stati difficili e infatti è stato così non solo poi c'è stato anche sono stati un po di problemi di contorno che ben conosciamo ma arriviamo alla notizia la notizia che è dell'altro ieri perché ormai è passata mezzanotte comunque di 22 agosto 2022 ed è stata pubblicata sul sito giapponese del mensile young machine e che onda richiesto la registrazione del nome attenzione xl 750 transalpa lo scorso 12 agosto all'ente di omologazione nipponico che è stata ed è stata poi resa appunto effettiva il 22 agosto 2022 quindi cominciamo a cominciamo a vedere non è la moto ovviamente che si presenterà è una delle proposte le varie proposte che sono state fatte nel frattempo allora qui vi ho messo un link che vedete qui in descrizione se andate vedere in descrizione dove avevo parlato del fatto che l'africa twin si sarebbe potuta presentare con una cilindrata di 850 centimetri cubici in realtà da questa comunicato la cilindrata sarà di 750 centimetri cubici qui la piccola africa twin non si chiamerà africa twin bensì transalpe il nome transalpe qui metto un altro link che riguarda il mio video dove parlava della strada dell'87 per l'appunto veniva ripreso da questo modello che ci tengo a precisare come nel nome faccia riferimento a uno specifico progetto che onda aveva fatto in quel periodo partire dall 86 per essere precisi il prototipo era quindi concepito specificatamente per l'europa lo stile transalpe spiegato già dal nome per transa ciò che si colloca appunto a cavallo delle alpi per per dirla tutta insomma ma per precisare ancora meglio la collocazione della moto onda creò quel periodo una nuova categoria rally touring allora questo vuol dire che la moto potrebbe anche discostarsi da quella che è la filosofia appunto che è legata a africa twin quello che potrebbe essere però vero è che avrà la ruota anteriore da 21 pollici quindi una connotazione appunto piuttosto fuori stradistica oltre al nome transalpe già nuovamente depositato in molti mercati europa quindi compresa c'è quindi certezza sulla cilindrata abbiamo detto un propulsore che sarà la base anche per la nuova hornet e altri due modelli quindi un bicilindrico fronte marcia la xl 750 transalpe non si presenta però come sostituto della crossover nc 750 x perché la nc 750 x in realtà non è una moto come dire entro enduro per capirci ma una moto dedicata prevalentemente all'asfalto infatti la bombatura parte le ruote in legame anche di 17 pollici e quindi un pubblico diverso quindi la nc 750 x dovrebbe rimanere in catalogo mentre appunto la transalpe dovrebbe avere la ruota da 21 pollici le ruote a raggi come l'africa twin insomma e soprattutto come le precedenti transalpe che sono partite da 600 centimetri cubici per arrivare poi la cilindrata di 700 centimi nel corso del tempo e con il motore bicilindrico av avrà invece appunto questo tipo di motore ed entrerebbe quindi nel segmento dove sono già presenti la yamaka teneris 700 e l'aprile piglia tuareg 6 a 60 e questa nuova interessante insomma enduro stradale dovrebbe avere quindi una potenza questo tutta ipotesi di un'ottantina di cavalli invece per quanto riguarda la commercializzazione della ornette la possibile probabile ornette di cuore è stata presentata così una un'idea al precedente salone la potenza potrebbe salire anche 100 120 cavalli naturalmente per una moto come questa dedicata più a un fuoristrada leggero la potenza potrebbe essere minore magari la coppia maggiore quindi ragionevolmente un'ottantina di cavalli però con un peso delle dimensioni adatte un pubblico più o molto eterogeneo quindi peso minore rispetto a queste maxi da fuoristrada e dimensioni anche più ridotti questo è un po il quadro che mi sento di tracciare dopo questa notizia bene quindi se vi è piaciuto il video mettete un like se non vi è piaciuto un dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella per essere sempre e costantemente aggiornati se vi è piaciuto il video se sentire parlare di moto vi fa piacere questo aiuta sicuramente il canale qui sotto i vostri commenti molto sempre molto graditi ciao ora sarà